Ciao a tutti, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in postazione PC perché andiamo a rivedere e a sistemare la mia wishlist su Amazon. È davvero da tantissimo tempo, sicuramente da due anni, che non vado a guardarla, a sistemarla e in realtà ho già eliminato un sacco, un sacco di libri. Tutto questo principalmente perché ho venduto un sacco di libri che avevo, tantissimi libri che avevo in libreria che ormai non ero più interessata, non li volevo più leggere e alcuni mi sono stati regalati ma non rientro nella mia comfort zone. Quindi con il ricavato andrò nei prossimi video ad acquistare qualcosa che invece ho voglia e desiderio di leggere. Quindi prima di tutto devo andare a sistemare la mia wishlist per poi andare a decidere che cosa comprare. Quindi iniziamo! Ok, partiamo subito con vedere che cosa ho lasciato all'interno della wishlist. In realtà, come vi ho già detto, ho cancellato tantissimi libri perché alcuni erano inseriti lì ancora dal 2018-2019 e nell'arco di questi anni ho veramente perso entusiasmo e voglia di leggerli. Però ne ho lasciati un po', tra cui Quasi Nemici di Elisa Crescenzi perché mi stuzzica. Ho già letto qualcosa di suo, mi era piaciuto molto quindi sono curiosa di leggere altro. Poi ci sono tre volumi della Black Dynasty Series di Marilena Barbagallo, ovvero Aries, Libra e Scorpio. Io ho letto i primi due, mi erano piaciuti molto e vorrei tanto continuare la serie. Quindi magari il 3 e il 4 potrebbero essere papabili, però intanto ce ne sono un sacco di nuovi da aggiungere. Poi di Paola Chiozza ce ne sono due, Punizione Divina e Conflitto di Interessi. Sono due titoli che ho visto molto spammare su Instagram, ne ho sentito parlare molto, quindi sono molto molto curiosa. Paola Chiozza mi piace, ho letto un suo libro e quindi vorrei comunque leggere qualcosa in più. Dopodiché c'è Taste Me, Forbidden Romance di Chiara Benedetti e Laura Piccinini. In realtà sono sincera, non so di che cosa parli, non mi ricordo e non so niente perché sia qui. Mi dà l'idea che sia una specie di bully soft, hate to love, però in realtà ancora non lo so bene, è un punto di domanda. The Beauty and the Dark di Roberta Bianca è una ragazza che seguo molto su Instagram e di cui vorrei però prima leggere un'altra cosa, quindi lo tengo lì perché mi ispira moltissimo, però prima vorrei comprare un'altra cosina sua. Poi c'è Promettimi di Restare, di Chiara Trabalza, dovrebbe essere, non lo so, mi dà l'idea che sia una specie di Regency Romance dalla copertina, ma anche di questo non mi ricordo e in realtà non so neanche perché l'ho lasciato lì, però boh. E alla fine Dove soffia il vento di Rainbow Rowell, in realtà ci sono due volumi di Rainbow Rowell che vorrei acquistare di cui appunto questo che è il seguito di Carry On, che devo ancora leggere, però a questo punto vorrei avere la trilogia completa per poi appunto iniziare. Detto questo, che come abbiamo visto è la lista di acquisti, la wish list che ho qui, ci sarebbe anche la lista dei desideri, che credo fondamentalmente sia quella più aggiornata in assoluto. Innanzitutto c'è Bodyguard di Catherine Senter, è una recente uscita, mi stuzzica davvero moltissimo perché lo trovo molto intrigante. Non ti chiedo altro di Vicky Land e Penelope World, è un duo di scrittrici che io amo tantissimo, che mi fanno letteralmente impazzire e quindi diciamo che è una sorta di tutto quello che loro scrivono io compro e leggo, quindi per questo è qua. Poi c'è Imperfect Match di Melanie Harlow e Corinna Michaels. In realtà io ho letto i precedenti due libri e quindi questo andrebbe a chiudere un po' il cerchio. Io li inserisco tutti, quelli a cui sono interessata, poi non è detto che li acquisterò in cartaceo perché ultimamente ho la fissa del Kindle, del e-book e quindi chissà. Poi Under the Snow, in realtà credo sia un titolo natalizio, è lasciato qua per caso, quindi lasciamo perdere. Cattive Compagnie non ne ho idea, però ok. I prossimi sono anche... Un'altra cosa che mi sono molto incuriosita è la serie di Taere Mafi, Shatter Me. Però non esistono più i libri singoli. Per leggere i primi tre bisogna per forza comprare la trilogia che è un mattone enorme così, che ho visto in libreria, che a me non entusiasma per nulla perché quando vedo un libro mattone io rinuncio in partenza. Lasciarli divisi in tre secondo me era forse la cosa migliore anche perché appunto acquisto il primo, se poi non mi piace non acquisto gli altri. In questo caso li ho tutti e tre per forza di cose e quindi questa cosa mi scoccia. Però ho visto che i libri singoli sono impossibili da recuperare. Poi di Paola Chiozza c'è un'altra serie di libri che è la The Goldsmiths che mi incuriosisce moltissimo. Il primo è La formula dell'attrazione e devo essere sincera che di Paola Chiozza vorrei leggere tutto quello che ha scritto perché quello che ho letto veramente mi ha entusiasmato un sacco e quindi credo che sia veramente una scrittrice che vale la pena dargli una possibilità. Poi ci sono vari libri a cui in realtà non so perché sono ancora qui e per finire un eroe ribelle che mi pare sia in realtà il secondo e quello che vi ho detto prima è il terzo della serie Carry On e The Burning Shadow di Jennifer Lynn Armentraut è il secondo della storia di Luke. Mi era stato inviato dall'aggiunti il primo che mi era piaciuto. Armentraut sapete che è il mio best writer's female forever e quindi vorrei comunque collezionarli. Questo è quello che io ho attualmente in wishlist però, però, ce ne sono un sacco che sono usciti di recente che vorrei tantissimo, tantissimo, tantissimo leggere. Andiamo in ordine. Gli ho già selezionati, ho già aperto delle pagine su Amazon perché volevo rendere il video un po' più dinamico, un po' più veloce. Quindi, Legati dall'Onore, che è il primo volume della Mafia Chronicles di Cora Raleigh. Questo in realtà mi sono imbattuta perché sto realizzando un post su Mare Fuori, su Instagram e quindi stavo un po' cercando qualcosina e mi ha incuriosito. Si parla di famiglie mafiose, di figlie che vengono comunque promesse spose ad altri figli di capi mafiosi per unire le famiglie e quindi mi ha stuzzicato moltissimo perché io amo un po' questo genere Hate to Love molto sadico, molto forte, molto cattivo e quindi mi ha incuriosito tantissimo. Quindi lo inseriamo subito nella lista dei desideri poi dopo porterò tutto nella lista dei desideri. Sono tanti i volumi, in realtà, però per il momento a me interessa il primo. Poi, il secondo della Royal Hearts Academy ovvero parliamo di Cole di Ashley Jade se mi seguite, beh, nei vlog no perché non li faccio più però se mi seguite nei video dedicati al Rope Up ho letto Jace per San Valentino che è un bully soft, high school, hate to love molto intenso, molto appassionante questo è il secondo volume, è una duologia e si parla del fratello di Jace sono molto curiosa perché l'abbiamo già intravisto nel primo si sa già con chi, ipotetico, dovrebbe fare coppia mi piacciono entrambi quindi mi incuriosisce moltissimo e quindi inseriamo assolutissimamente anche lui. Poi, Stack With You, un ascensore per due di Hallie Edselwood io ho letto The Love Hypothesis e Under One Roof ho amato entrambi alla follia perché ha un modo divertente, frezzante, super coinvolgente di scrivere Hallie che mi ha veramente super super coinvolto e quindi un ascensore per due lo devo assolutamente leggere e questo esiste solo in versione e-pug quindi sarà la versione che acquisterò Poi, Facciamo finta che mi ami di Elena Armas anche questo l'ho visto spammato molto infatti viene chiamato il fenomeno romantico di TikTok se siamo attenti su TikTok vengono spammati sempre un sacco di libri e la maggior parte diciamo che diventano veramente virali e questo è uno di quelli mi incuriosisce davvero moltissimo anche se forse non è tra le mie prime scelte però mi incuriosisce il fatto che comunque ci sia un personaggio che arriva dalla Spagna quindi un qualcosa di diverso sarà sicuramente super divertente può avere delle ottime chance per essere una bella lettura Poi, By Any Other Name con qualsiasi altro nome di Lauren Kate Allora, partiamo dal presupposto che di Lauren Kate ho iniziato a leggere la serie Fallen quella sugli angeli caduti e l'ho odiata profondamente ho visto il film che non mi è piaciuto molto il primo libro vi giuro che non ho amato per nulla niente ed è veramente difficile che io faccia questa considerazione Lauren Kate non mi ha preso per nulla né dalla prima né all'ultima pagina ho la serie completa di libri che vorrei vendere perché occupa soltanto spazio e non credo che la leggerò veramente mai più però qui ha scritto un young adult un romance quindi è uscita un po' da quel genere fantasy di Fallen e quindi vorrei dargli un'altra possibilità perché credo che nella vita delle seconde possibilità c'è sempre bisogno ed è sempre utile quindi vorrei leggere questo suo romanzo per capire un po' se magari è stato un mio errore oppure se proprio lei non entra comunque negli miei gusti quindi questo vorrei provare a dargli una chance assolutamente, assolutamente sì dopo di che c'è una duologia di Kristen Callahan ovvero Sweet Enemy e il secondo che mi ero segnata da qualche parte Pretty Enemy sono della Always Publishing e anche qui mi incuriosisce moltissimo partiamo sempre da Hate to Love da stili che io amo molto da cliché che mi prendono sempre moltissimo poi hanno delle copertine che io vengo sempre super super attratta la Always Publishing pubblica libri a mio avviso sempre molto interessanti e c'entrano sempre l'obiettivo quindi sono molto molto curiosa e di entrambi vorrei appunto ad entrambi vorrei dare una chance quindi li inserisco entrambi poi c'è un'altra serie di libri che sono molto curiosi di leggere e sono le copy stories copy series di Tania Paxia di lei ho già letto alcune cose sono in contatto anche con lei è una ragazza che mi piace moltissimo e mi incuriosiscono questi due titoli i bravi ragazzi non mentono che è il primo volume le cattive ragazze non restano a colazione che è il secondo volume le copertine sono molto accattivanti i titoli pure quindi credo che anche le trama lo sia in realtà non ho approfondito molto perché anche con lei vado un po' a colpo sicuro mi piace tutto quello che scrive quindi entrambi li voglio assolutamente aggiungere nella mia lista desideri Tania Paxia ha scritto molti titoli interessanti molte storie romance interessanti l'avevo incontrata al Salone del Libro 2019 è una ragazza super dolce super carina quindi sono sempre super contenta di dare una possibilità poi volevo fare una lista separata romance fantasy però in realtà di fantasy in questo momento non ne ho molti di interesse di Jennifer Armantrout hanno finalmente deciso di refare un restyling della serie The Dark Elements e in particolare hanno anche deciso di pubblicare la novella Dolce come il miere in realtà appunto esisteva soltanto come ebook io ho letto l'intera trama l'intera storia i tre libri con le vecchie copertine però vorrei fondamentalmente avere anche la novella per chiudere il cerchio non credo assolutamente che comprerò le nuove copertine perché mi piacciono molto quelle che ho però vorrei sempre di Jennifer Armantrout comprare anche il seguito di una serie che ho letto no, di una serie che ho comprato Sangue e Cenere e quindi vorrei comprare Regno di Carne e Fuoco e la Corona di Ossa la serie è Blood and Dash famosissima che sta girando virale su TikTok e su Instagram di cui ho sentito ho visto video commenti di ogni dove luogo laghi e via dicendo e quindi sono molto curiosa e quindi credo che sicuramente saranno papabili acquisti torniamo al romance e Helen Hong è stata rivisitata di suo un romanzo che è The Kiss Quotient La Matematica dell'Amore era già stato pubblicato tanti anni fa con una copertina meno accattivante diversa più sempliciotta le copertine che hanno fatto in questo momento il restyling è molto più accattivante e quindi l'ho comprato lo dovrò leggere però di suo è stato pubblicato anche The Bride Test una sposa in prova e The Heart Principle l'ipotenusa dell'amore sono tutti e tre titoli che mi stuzzicano che mi interessano e quindi papabili acquisti ovviamente credo che magari questi li andrò ad acquistare una volta che avrò letto il primo una volta che ho capito lo stile suo e ho capito se può entrare comunque nella mia comfort zone probabilmente li acquisterò prossimo in wish list la libreria dei piccoli miracoli questo in realtà è da una vita e mezza che lo voglio comprare e lo voglio comprare sempre sotto Natale poi cambio idea mille volte di Ambra Garofalo e Roberta Bianchi sono due ragazze che seguo con molto piacere su Instagram e su TikTok due giovani scrittrici Lifestyles hanno anche un canale qua su YouTube che mi piacciono moltissimo e questo mi ispira davvero molto soprattutto la copertina la trovo di una piccolo gioiellino una piccola chicca un piccolo non lo so pasticcino bellissima i colori sono stupendi sono wow e credo che anche la storia lo sia quindi va di diritto in wish list ovviamente non potevo non inserire l'ultimo romanzo di Colin Hoover ovvero Never Never in collaborazione con Taryn Fish le copie che esistono che vengono comunque vendute sono quelle autografate da entrambe quindi perché la devo lasciare lì cioè deve essere mia io ho letto gran parte delle scritture di Colin Hoover è una tra le mie scrittrici preferite sto facendo fatica ad approcciarmi agli ultimi due suoi libri perché la tematica è veramente forte però questo lo voglio leggere perché credo che sia un po' meno rispetto agli ultimi volumi pubblicati però la storia anche questa molto molto di impatto quindi lei probabilmente deve assolutamente entrare nei miei prossimi acquisti finiamo con l'ultimo che è un'uscita recentissima ed è un sport food romance non leggo di solito questo genere ma nella mia challenge di lettura del 2023 c'è di leggere comunque uno sport food romance e io ho scelto questo fake it di Manuela Ricci dovrebbe parlare di hockey di pattinaggio dovrebbe essere una sorta di bully romance hate to love quindi tutto ciò che io in questo processo momento amo e adoro e quindi entra di diritto anche lui nella mia lista questa qui è la mia lista completata i libri sono davvero tanti la mia scelta sarà veramente ardua ma ovviamente vi aspetto nel prossimo video per vedere e decidere insieme che cosa acquistare se vi è piaciuto il video lasciatemi un like un pollice in su iscrivetevi al canale attivate il campanellino così non vi perderete i prossimi video e fatemi sapere voi che cosa avete acquistato di recente che cosa vorreste acquistare o quali di questi libri vi fanno più sognare un bacio grande a tutti e ci vediamo presto ciao ciao